Con la sinistra l'arcobaleno sai da che parte stai. Dalla tua parte, dalla parte di chi fa la spesa tutti i giorni e vuole abbassare i prezzi. Di chi vuole tutelare il lavoro e il tuo salario. Dalla parte della libertà di scelta delle donne e dello stato laico. Dalla parte delle energie pulite e di un futuro sostenibile. Fai una scelta di parte. Vota la sinistra l'arcobaleno. L'unico voto utile per battere le destre. Vota la sinistra l'arcobaleno.